Quante di voi sono in questo stato? Sette. Un convento di clausura. So che hanno subito una violenza, ma voglio aiutarle. E un segreto da tenere nascosto. Ogni giorno rivivo quello che è successo. E nessuno ha perso la fede. Ispirato ad una storia vera. La fede è un mistero. All'inizio sei come un bambino che tiene per mano suo padre e che si sente al sicuro. Ma viene un momento in cui il padre lascia la mano. Per il ciclo il lunedì è sempre un drama. Agnus Day. Lunedì alle 21.15 su Cielo. Lunedì alle 21.15 su Cielo.